Ciao, sono Moreno e vengo da Manfredonia. Qui alla mia destra c'è il mio amico Giovanni e alla sinistra c'è il mio amico Bruno. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso perché non ci piacevamo e quindi abbiamo deciso di soffrire di un traprendo capelli. Abbiamo cercato su internet una delle migliori cliniche e abbiamo trovato vantamento. Abbiamo ricevuto subito supporto sia morale che professionale da parte di Aisun. Aisun è stata sia dall'inizio è stata una ragazza speciale, ci ha seguito dal primo passo all'ultimo e non ci ha mai lasciato. Siamo entrati in clinica che era presto e siamo usciti in clinica che era notte. Quindi è stata sempre presente e non ci ha fatto mai mancare nulla. Che altro dire? Ci siamo trovati bene? Penso che si vede il risultato. E inoltre abbiamo fatto la prima parte dell'intervento è avvenuta con un'anestesia dalla parte della nuca. Io personalmente non ho sentito dolore. Mentre la seconda parte dell'intervento è avvenuta con un'anestesia sulla parte frontale della testa. Ho sentito un leggero pizzichio delle siringhe, però tutto tranquillo. Infatti adesso sono qui, sono vivo e vegeto. Non so se vi vuole raccontare qualcosa a mio amico Giovanni, passo la parola a lui. Anche io sono soddisfatto di tutto come è andato il percorso. Per me è poco 10 della clinica. Che altro possiamo dire? Tra un po' che siamo belli carichi andiamo a vedere Istanbul. Ci aspettiamo di conoscere una bella città in base alla fiction Gian e Sanem, come ci è stata raccontata in Italia. Quindi niente, che dirvi? Arrivederci, anzi speriamo a mai più. Ciao! 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 Grazie a tutti